Nelle ultime due settimane si sono interrotti i trasferimenti di richiedenti asilo verso altre regioni, con l'inevitabile conseguenza che il Cara di Gradisca di Isonzo è in saturazione. Nella struttura sono accolte al momento 658 persone, più del doppio della capienza prevista. Circa 300 di queste si trovano nell'edificio che ne dovrebbe ospitare poco più di 200, mentre le restanti, nelle tende allestite, all'interno della stessa area di Via Udine. A causa dell'allungamento dei tempi per le necessarie procedure da parte dei carabinieri, la condizione extra-accoglienza, cioè delle persone sulla strada, perdura anche molti giorni. A fronte quindi della presenza fissa e incostante aumento di migranti in attesa, accampati nel parco di Via degli Eroi, tra le case e il parcheggio di un supermercato, il sindaco Linda Tomasinsic ha chiesto il rafforzamento delle forze dell'ordine e ha ribadito la necessità di alleggerire una situazione che rischia di avere forti conseguenze sociali. E allo studio, nell'immediato, l'attivazione di un punto di consegna kit per l'igiene personale e abiti puliti a fronte di un'emergenza freddo in arrivo. Ma il primo cittadino, in costante contatto con la prefettura, ribadisce «Sono davanti agli occhi di tutti grandi limiti di un'accoglienza gestita in emergenza. Sarebbe opportuno considerare la creazione di un hub di prima accoglienza a livello regionale, che potrebbe certamente sollevare le situazioni vissute da Gradisca, come da Udine e Trieste. E se alla Cavarzerana i numeri sono sempre più pesanti. Da parte sua, il prefetto di Trieste, annunziato Vardè, ha rimarcato come a Trieste l'emergenza sia l'accoglienza di migranti. A pochi giorni dal maxi rintraccio di oltre 150 persone sul territorio provinciale. I sindacati di polizia rinnovano quindi l'appello a un intervento serio. I SAP fa notare come non siano mai arrivati i rinforzi e ci siano importanti carenze logistiche. La segretaria regionale del SIUP riporta un dato su tutti. I rintracci sono passati da 120 all'anno nel 2005 ai 6.000 attuali, a fronte di un'organizzazione identica.